Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video, allora oggi video un pochino particolare perché sarà un video chiacchiericcio riguardo alla promo che ci sarà il 25 di novembre, quella dove se spendete 130 euro mi sembra, o 129, boh qualcosa del genere vi daranno un bracciale mesh in omaggio, sicuramente ci sarà questa promo e io muoio, non vedo l'ora perché non vedo l'ora di prendere questo mesh non ho un mesh quindi è una novità per me, allora io cosa comprerò con quella promozione? io con quella promozione acquisterò sicuramente la catenina di sicurezza per questo qua, che è il mio bracciale natalizio, ormai lo conoscete e prenderò quella con la stella e la luna che mi fa impazzire, in più volevo prendere il fantastico fiocco di neve tra l'altro questi due prodotti mi fanno impazzire entrambi, per cui non possono mancare nel mio bracciale natalizio perché faccio questo video? Perché voglio un vostro consiglio allora io ho il fiocco di neve fake, questo qua, purtroppo non riesco a toglierlo da questo bracciale tra l'altro l'avevo preso su Aliexpress, è immenso, ci stanno due braccia, due polsi in realtà comunque ho questo fiocco di neve qui, lo faccio vedere, di Aliexpress che appunto volevo vedere un attimo come starebbe in questo bracciale perché come sapete non so se prenderlo oro rosa o se mantenermi sul colore argento perché se sposto tutti questi charm e comunque concludo un bracciale nel bracciale mesh molti di voi mi hanno detto che non va bene, che il mesh è molto delicato, un po' come i rigidi e quindi non è adeguato a portare tutto il peso dei charm e in effetti avete ragione c'è da dire che non lo userei proprio tutti i giorni e a me farebbe piacere appunto avere il bracciale natalizio su un bracciale appunto a tema natalizio cioè che proprio ha la chiusura natalizia che è uscito proprio per Natale però è anche vero che mi fa piacere anche riprendere un bracciale con i colori oro rosa perché mi piace un sacco come colorazione solo che se non lo facessi natalizio non ci sono poi così tanti charm oro rosa che mi piacciono da riempirne uno appunto e quindi non so se acquistare il fiocco di neve oro rosa come quello che ha Wish per intenderci oppure se mantenermi sull'argento e quindi prendere quello ovviamente originale non quello di Aiexpress però giusto per farvi un po' capire come starebbe secondo me starebbe benissimo perché è tutto tempestato appunto di questi zirconcini che fanno luce, tantissima luce e questo bracciale è pieno di luce se notate c'è l'albero che fa un sacco di luce il pupazzo di neve che fa tantissima luce la palletta, cioè ce ne sono di il pacchetto regalo ce ne sono di charm su questo bracciale che fanno luce per cui ci starebbe veramente veramente bene questo fiocco di neve originale non lo so, io ci sto pensando ho ancora diversi giorni per pensarci perché comunque la promo è il 25 se non erro quindi c'è tempo per pensarci anche perché tutti i pezzi natalizi che mi piacevano io li ho già quindi non vado a riprendere altri pezzi natalizi perché come vedete io il pinguino l'ho preso ed è carinissimo la casetta l'ho presa e mi piace da morire il retro mamma mia quanto è bello il retro però ovviamente ho messo l'omino, pan di zenzero vicino alla casetta perché sta benissimo e ho preso anche la giostrina quindi io al momento con i pezzi della nuova collezione natalizia direi che sono più che a posto non a posto, molto più che a posto e quindi ho deciso di sospendere l'acquisto di cose natalizie certo ci sarebbe anche la medaglietta che mi piace moltissimo quella tonda con babbo natale, la renna eccetera con lo sfondo dietro rosso però ci sono tanti altri charm fuori produzione natalizie che mi piacciono che non vado a prenderlo anche se in realtà ok ci sono tanti charm natalizie fuori produzione però siccome non ho intenzione di fare un secondo bracciale natalizio perché sennò qui veramente aiuto se mi rimane questo spazio contate che io devo mettere la clip quindi diciamo che avrei spazio per magari altri due charmini può essere che lo lascio così quest'anno così che il prossimo anno io sia pronta ad acquistare altri charm natalizi da aggiungerci senza per forza dover utilizzare un altro bracciale appunto nulla quindi il mio dubbio è tengo tutto qua catenina di sicurezza fiocchetto di neve oro rosa e me ne frego del fatto che non abbiano chiusura natalizia oppure trasferisco tutto nel mesh non potendolo certo utilizzare sempre perché sarebbe stratieno di charm e non è il caso eccetera cosa ne dite? ho bisogno dei vostri consigli veramente mi servono i vostri consigli perché non so bene come gestire questa cosa ci sto pensando da un sacco mi dico va bene basta ho deciso prendo il fiocco oro rosa e poi cambio idea perché voglio quello argento cioè capite anche voi che non so bene come comportarmi i problemi della vita per noi che amiamo Pandora comunque è bellissimo cioè già è bello questo qui che è un fake acquistato su Aliexpress cioè figuriamoci quello originale non lo so fatemi sapere cosa ne pensate perché sono veramente curiosa però il fiocco di neve per me dà un sacco di luce quindi in ogni caso lo voglio prendere e poi in questo bracciale cioè non può mancare il fiocco di neve così come non possono mancare queste due murrine devo decidere se acquistare anche il pezzo mi piace tantissimo il Babbo Natale Sfera però l'avevo detto nell'altro video e anche la sferetta tutta rossa con le strisce argentate mi piace da morire quindi appunto devo decidere cosa fare con questi due pezzi se prenderli oppure no o aspettare una prossima collezione natalizia penso che farò così così che io abbia ancora spazio il prossimo anno senza dover per forza comprare e comporre un altro bracciale natalizio perché ragazze poi cosa fai vai in giro con due natalini no ne tieni uno che ti sei fatta il matto per comporlo e quindi va bene così insomma comunque lo sto veramente amando cioè poi boh sono pazzeschi veramente sono bellissimi non ho parole mi sembra ieri che acquistavo la cioccolata con panna e la mettevo nell'altro bracciale mamma mia vuola il tempo vabbè discorsi d'anziani spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando sotto aspetto tutti i vostri commenti fatemi sapere a cosa ne pensate perché sono super iper curiosa voglio sapere a cosa ne pensate che cosa fareste voi se spostereste tutti i braccia e tutti i charm oppure no fatemelo sapere con un commentino spolliciate sostenetemi io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao